Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a tutti, come promesso questa sera vi dovrò portare il video Juventus-Sassuolo e grazie a Dio la Juventus questa sera vince 3 a 1 con i Sassuolo e vamos, e vamos, comunque prima di iniziare con questo video vi ricordo di lasciare moltissimi mi piace, moltissime iscrizioni al canale perché ci tengo tantissimo attivando moltissime campanelline e notifiche se volete ricevere notifiche ovvero notifiche per non perdervi nessun video ma soprattutto come sempre link in descrizione OneFootball la migliore applicazione di calcio dove potete ascoltarvi tutti i mondi del calcio e tutto di più Amazon l'applicazione che vi permetterà di comprare tutto quello che volete voi, tutto quello che desiderate in questo mondo ma soprattutto link Instagram mio fratello MagazineSpot360 vi invito a seguirlo perché è molto molto bravo soprattutto su mondo del calcio e ragazzi miei adesso possiamo dire al via di questo bellissimo video Juventus batte Sassuolo 3 a 1, 3 a 1, una partita soffertissima una partita soffertissima, una partita soffertissima oggi mi sono chiesto se la Juventus perde spaccavo questo è un cd vecchio spaccavo questo se questa sera la Juventus perdeva se la Juventus questa sera perdeva con il Sassuolo quel cd zack ve lo giuro andava a finire così andava a finire così andava a finire così mamma mia ragazzi che sofferenza che sofferenza non si può vincere così ragazzi non si può vincere così l'importante capito vinto terza vittoria consecutiva un 2021 inizia alla grande con 4-1 all'Udinese 3 a 1 con i Milan 3 a 1 con i Sassuolo e adesso la penultima partita di campionato del gione d'andata è l'Inter l'Inter di Antonio Conte che questa mattina alle 12 e mezza ha pareggiato 2 a 2 Roma Inter 2 a 2 è stata una splendida partita Iachini gol pazzesco ma domani non so se farò un video però questa sera ve lo dovrò per forza portare perché la Juventus finalmente ha vinto 3 a 1 con i Sassuolo quando non hanno fatto è andata a finire 2 a 2 2 a 2 su erovi clamorosi mamma mia mamma mia 3 a 1 splendido 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 splendissimo gol di Danilo che da lontano caiga questo destro potentissimo e trova quell'angolo lì dove con Sino non ci può arrivare Danilo gol pazzesco e dopo a minuto 50 Danilo potte in vantaggio la Juventus dopo 8 minuti ovvero a minuto 58 del secondo tempo è arrivato il gol del Sassuolo e la mi sono chiesto questa partita se la giochiamo così questa partita la perdiamo la perdiamo e ce lo meritiamo per il gioco schifoso che stiamo facendo e poi e poi la Juventus ha capito che doveva attaccare e ha attaccato bene e ha attaccato bene e su un errore su una cappellata difensiva del Sassuolo Ramsey ne approfitta su assist non mi ricordo su assist di Kuluseski non mi ricordo ma su una cappellata su un errorissimo su un errore del Sassuolo in difesa ne approfitta Ramsey che in in scivolata in mezza spaccata riesce a buttarla dentro e firme il doppio della Juventus e poi al novantesimo più due minuti di recupero vabbè sfortunatissimi nel primo tempo con due infortuni anzi possiamo dire e tre infortuni con primo un primo McKennie e si fa male infortunato cadrà a terra rimane a terra e quindi viene sostituito da Ramsey Di Bala poi KO McKennie e KO McKennie e Di Bala sono KO adesso fa sette giorni vabbè fate giorni ci sarà Juventus Genoa ma fa sette giorni ci sarà Juventus Inter che sia una Inter Juventus che sia una ottima partita dove la Juventus queste partite non le perde quasi mai e quindi mi ha fatto piacere che questa sera abbia vinto poi c'è stata anche l'espulsione del Sassuolo veramente là mi sono chiesto ok è stato 11 contro 10 infatti della Juventus cioè dobbiamo fare 1-0 ok 1-1 no no nessuno ok 2-1-3-1 sì sì e sì però bisogna bisogna capire questo gioco bisogna capire questo gioco bisogna capire questo gioco la Juventus nel primo tempo si è divirata con la porta vuota Kuluzeschi potevi avere tutto il tempo che volevi perché tiri di prima intenzione la butti in aria Ronaldo poi davanti a consigli pari a consigli non ci possiamo divorare sti gol non ci possiamo divorare sti gol non ci possiamo divorare sti gol ragazzi non ci possiamo divorare sti gol e poi fortunatamente no fortunatamente no finalmente nel secondo tempo abbiamo giocato bene ma bisogna fare anche i complimenti a Sassolo che ci ha messo in seria difficoltà sia in attacco sia in difesa l'attacco esce Caputo esce Giudicic Caputo Boga entra poi mi sono chiesto vabbè e ora entra Boga adesso è intanto Boga adesso è intanto Boga e sono cavoli a mai per non dire altri invece Boga non l'ho per niente sentito in questa partita negli ultimi minuti non l'ho per niente sentito e comunque sono contento che la Juventus ha tolato il terzo la terza vittoria consecutiva perché 4-1 con l'Udinese 3-1 splendido con il Mila 3-1 di nuovo stesso risultato proprio con il Sassuolo ragazzi miei questa sera la Juventus doveva per forza vince perché se dovesse pareggiare se doveva pareggiare se avesse se avesse pareggiato se avesse perso era finita era finita cioè finita no vabbè se la perdeva era finita al 100% se la pareggiava andava in quinta sesta posizione adios ma adesso che siamo in quarta posizione siamo in quarta posizione sopra l'Atalanta con 31 punti noi adesso ce ne abbiamo 33 adesso l'Atalanta fa non so fa quanti giorni ma dovrà affrontare Mila e spero che l'Atalanta Mila la vince l'Atalanta oppure va a finire in pareggio guarda va a finire in pareggio non me ne frega niente ma è stata una grande vittoria è stata una grande vittoria una grande vittoria il Mila ne approfitta con i 2 a 0 l'Inter non ne approfitta ancora sul pareggio contro la Roma all'Olimpico 2 a 2 poi alle ore 18 si è giocata Frentino a Cagliari 1 a 0 ma non ci interessa Spezia Udinese Napoli 2 a 1 per il Napoli Baccario corsa al Napoli al novantesimo se Napoli avesse pareggiato se Napoli contro il Ludinese non avesse vinto ne approfittavamo ancora di più ne approfittavamo ancora di più ne approfittavamo ancora di più ma va bene così va bene così va bene così Juventus batte e sta solo 3 a 1 sofferenza ragazzi sofferenza sofferenza adesso occhio la prossima partita che avrebbe la prossima partita sarà il Genua alle 20 e 45 Juventus Genua dove fa un altro video è ovvio e poi fa 7 giorni fa una settimana domenica Inter Juventus alle 20 e 45 e sarà ancora una volta sofferenza non si sa ma grazie miei il video lo concludo così spero spero con tutto il mio cuore che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando moltissime campanelline delle notifiche se non vi volete perdere nessun episodio OneFootball e Amazon e Instagram mio fratello MagazineSpot 360 come ho detto ragazzinei ragazzi miei no ci vediamo con un prossimo video da fino alla fine Bianconevo è tutto e sempre Forza Juve DAIE